Buongiorno e benvenuti e benvenuti a tutti e a tutte. Oggi ci occuperemo di elenchi puntati, di elenchi numerati in Word. Dove si trovano, come si possono realizzare, come si possono personalizzare. Andremo a vedere anche come si possono realizzare degli elenchi complessi o elenchi indentati. Prima di guardare queste funzionalità di Word, vi ricordo che su questo canale c'è un corso completo di Word. Quindi chi vuole seguirsi tutto il corso e non perdersi nessun successivo caricamento, può iscriversi al canale, l'iscrizione è completamente gratuita. Vi ricordo inoltre che se vi piace particolarmente quello che vi spiego, quello che vi racconto, bel pollicione in su, altra possibilità di avere un bel pollicione in su, se volete che più persone possibili utilizzino questi tutorial, questi contenuti che sono completamente gratuiti. Ricordato questo, andiamo a vedere gli elenchi puntati e gli elenchi numerati in Word. Andiamo. Allora, guardiamo un po' dove sono gli elenchi puntati. Gli elenchi puntati si trovano qui nella sezione paragrafo, in questa iconcina qui clicchiamo e realizziamo il primo punto del nostro elenco. Il primo punto potrebbe essere, non so, ad esempio tutorial 1, poi diamo invio e tutorial 2. Vi faccio notare che io scrivo minuscolo, ma quando diamo l'invio, automaticamente gli elenchi puntati mettono come iniziale la lettera maiuscola. Tutorial 2, vedete? Tutorial 3. Se io voglio concludere questo elenco, che ha solo 3 punti, per uscire dal comando elenco, basta schiacciare due volte il tasto invio. Col tasto invio si torna alla funzionalità normale, quindi noi adesso possiamo scrivere del testo qualunque che non fa parte dell'elenco puntato. ci sono diverse possibilità di personalizzare questi elenchi puntati. Se noi clicchiamo una singola voce qualunque dell'elenco, si attiva il comando elenco puntati. Lo si può aprire e si può andare a vedere tutta una serie di icone, ad esempio qui ve le faccio vedere con lo scordimento del mouse, vedete? Quindi possiamo cambiarla automaticamente, ad esempio possiamo prendere questo simbolo qui e automaticamente tutti i punti del nostro elenco verranno cambiati immediatamente. Quindi non c'è bisogno di selezionare così tutto l'elenco, ma basta andare su uno qualunque delle voci dell'elenco per aprire il comando e andare a scegliere la nostra formattazione preferita. Allora qui vengono messi in fila gli ultimi punti utilizzati. Questo è il nostro elenco personalizzato, ce ne sono alcuni che ho usato per altri tutorial. e se non dovessero bastare questa raccolta degli elenco punti, noi possiamo definire altri punti. Dove si va? Si va qui, definisci nuovo punto elenco. Nuovo punto elenco. Si può utilizzare tutta una libreria di simboli, ad esempio questo. e quindi qui possiamo scegliere della libreria simboli, ad esempio io ho preso quello del telefono, avete visto, ma voi potete prendere un altro simbolo, ad esempio, non lo so, questo. Vi diamo l'ok. Qui vi fa vedere l'anteprima, noi schiacciamo ok, e noi abbiamo utilizzato un simbolo della libreria, e l'abbiamo portato nel nostro elenco puntato. Altra possibilità, adesso ve le faccio vedere un po' tutte, vedete che abbiamo utilizzato questo simbolo qui, questo viene messo nell'ultimo, nell'elenco, degli ultimi elenco dei punti usati, e nella nostra raccolta. Allora andiamo qui, noi possiamo anche modificare la formattazione del nostro carattere utilizzato, ad esempio possiamo dargli, ad esempio un colore diverso, potremmo darlo un colore rosso, oppure uno stile, una sottolineatura, il colore della sottolineatura, poi qui ci sono tutti i vari elementi che si possono applicare a seconda del simbolo, adesso qui vi cambio il colore per farvi vedere. Ok. E noi possiamo quindi cambiare la formattazione del nostro simbolo utilizzato per il punto. Altra possibilità, è quello di andare, qui, e di andare a prendere un'immagine. Da un file, possiamo scegliere un file del nostro computer, nel nostro onedrive, onedrive, possiamo ricercarlo con bing, io l'ho cercato con bing, adesso non mi metto a ricercarlo, e nulliamo e andiamo a prendere l'immagine che avevo già trovato, che è questa qui. Ecco che il nostro punto è stato modificato, è stata messa un'immagine, adesso io vi faccio un po' di zoom, così cerchiamo di zoomarlo un po' di più, e vedete che qui abbiamo messo l'immaginina dell'aereo col sole, quindi anche evocativa. Adesso andiamo indietro, e torniamo qua indietro in uno di zoom un po' più umano. Ecco qua. e questo, come vedete, ci sono diverse possibilità di personalizzare gli elenchi puntati. Adesso io questo lo posso anche cancellare. E andiamo a vedere gli elenchi numerati. Clicchiamo, qui esce fuori il primo punto, essendo numerato, ci sarà uno, due, tre, quattro, cinque, oppure ci sono diversi stili, questo stile, quello con la parentesi, con questi stile numerico, con A, B e C, insomma, ognuno può scegliere lo stile che più gli piace. Io ad esempio, per spiegare alcune cose, uso questo semplice. Mettiamo di fare in elenco un elenco una serie di azioni, svegliarsi, poi fare colazione, uscire, doppio clic e si esce dall'elenco doppio clic che è il doppio invio. Qui possiamo scrivere ricordati, ricordati, ad esempio, appuntamento, ce ne possiamo mettere una spiegazione di uscire oppure del testo che ci serve. Poi andiamo qui su elenco numerati e lui riparte con un altro elenco numero uno. Però se vedete con questo tooltip noi possiamo cliccare e continuare la numerazione. Quindi, se noi gli schiacciamo questo, continua la numerazione e qui sarà il numero quattro. ecco qua, uscire appuntamento di lavoro e poi ci sarà un pranzo di lavoro. Ecco fatto. Poi due clic e si esce. Quindi noi possiamo anche scrivere una serie di testo all'interno di un elenco puntato che potrebbe essere una spiegazione di qualche punto che ci serve particolarmente oppure possiamo se non utilizziamo il tooltip creare un secondo elenco di numerico. possiamo vedere che oltre a scriverli così il testo personalizzato lo possiamo utilizzare anche se il testo è già stato scritto ad esempio io uso la solita funzione run che serve per generale un testo un testo adesso divido un po' il testo per fare una serie di paragrafi ecco qua mettiamo che noi abbiamo questo testo qui noi vogliamo realizzare un elenco un elenco adesso questo lo possiamo tranquillamente selezionare e andiamo qui e gli possiamo dare tutta una nostra formattazione quindi anche se il testo è già stato scritto lo si può utilizzare per realizzare un elenco puntato ovviamente la stessa cosa per un elenco cioè questo è un elenco numerato oppure un elenco puntato non fa nessuna differenza vi voglio devo fare vedere anche un'altra cosa come realizzare dei elenchi indentati cioè degli elenchi che hanno dei livelli successivi non solo puntato con un unico livello allora vediamo qui andiamo a prendere questo foglio qui che mi sono mi sono predisposto allora adesso qui ho scritto un po' di cose lo tiro un attimo su così lo vediamo un po' meglio ecco fatto ingrandiamo anche un po' di zoom ammettiamo che noi abbiamo realizzato questo semplice testo quindi la barra di accesso rapido poi a cosa serve dove si trova come personalizzarla poi c'è la barra multifunzione a cosa serve da quali parti è composta inserire gruppo comandi inserire etichette è un elenco di cose però si capisce bene che questo sarebbe un capitoletto a cosa serve dove si trova fa parte della barra di accesso rapido quindi noi possiamo io sono abitato a selezionarlo così utilizziamo questa icona qui che è quello che crea dell'elenco a più livelli gli diciamo così in questa maniera lui ha creato come primo impostazione un elenco numerato 1 2 3 4 fino ad arrivare a 9 però se noi vogliamo che il punto 2 faccia parte del punto 1 come fosse un sottolivello ci si mette qua si utilizza il tasto tab che è il tasto freccetta sinistra e freccetta destra si schiaccia e questo viene rinumerato come 1.1 non è più punto 2 ed è un sottopunto del punto 1 e 1.1 cosa serve dove si trova possiamo anche qui fare in questa maniera come personalizzarla si parla sempre di questa cosa e quindi sarà 1.3 la barra multifunzione e 2 andiamo qui e facciamo 2.1 vedete che la cosa è molto semplice dove si trova se noi vogliamo aggiungerci ad esempio un altro punto possiamo fare esempi poi possiamo andare qui facciamo sempre la tabulazione e gli esempi diventano ad esempio un sottogruppo del dove si trova quindi in questa maniera qui è possibile andare a realizzare un elenco complesso un elenco indentato cioè primo livello è questo il secondo livello è questo prima indentatura poi ce ne può essere una seconda indentatura e via discorrendo per questo tutorial è tutto io vi saluto vi ringrazio vi abbraccio e vi aspetto al prossimo tutorial l'unico 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 Grazie a tutti.